Cesare, ma cosa stai facendo? Siamo in onda, è ora! Lorenzo, è già ora? Eh sì! Ma io sto sistemando la nostra cabina del vento perché a Stato dell'Arte questa sera presenteremo le cabine del vento. È stata installata in Italia la prima cabina del vento. Tu sai cos'è la cabina del vento, Lorenzo? No, non ho davvero la più pallida idea, Cesare. E allora per saperlo naturalmente devi seguire Stato dell'Arte, ti tocca. E innanzitutto però buonasera a tutte e a tutti. Questa sera un'altra puntata ricca, ricchissima del nostro programma. Innanzitutto vi presenteremo un collezionista. Un collezionista, pensate, di lettere antiche, di cartoline antiche, documenti postali che raccontano storie incredibili, storie avventurose, di politica, d'amore, di tradimenti, ahimè, anche di corna. E poi conosceremo un libraio speciale, anche lui ha aperto la libreria più alta d'Italia. E poi parleremo appunto delle cabine del vento, sono delle cabine magnifiche, che ci consentono di parlare con persone che sono molto vicine a noi, ma anche molto, molto lontane. E senza tecnologia, non vi svelo di più. Parleremo anche di artisti criminali, di criminali artisti, compresi tanti serial killer. Sarà il momento crime di stato dell'arte e alla fine, dulcis in fundo, un artista mascherato sarà proprio fisicamente nei nostri studi. Parliamo di un artista che tutela l'indipendenza, la libertà della sua ricerca dietro una maschera. La sua identità è ignota, questo per evitare persecuzioni. Tutto questo e molto di più questa sera a Stato dell'Arte, subito dopo la sigla. Buonasera a tutte e a tutti. Cominciamo con un collezionista davvero speciale. È un filatelista, cioè colleziona lettere e cartoline antiche, dal contenuto davvero esplosivo a volte. Potrebbero anche ispirare qualche sceneggiatore, perché sono documenti postali antichi che raccontano storie di politica, complotti, ma anche storie d'amore e qualche volta di corna. E allora cominciamo con una lettera antica. Devo dire, questa lettera, ahimè, non la possiede il nostro collezionista, che tra poco vi presenterò. È una lettera scritta da un grande protagonista della storia contemporanea. Tale Napoleone Bonaparte. Ascoltate. Non ti amo più. Al contrario, ti detesto. Sei una disgraziata, realmente perversa, realmente stupida, una vera e propria cenerentola. Non mi scrivi mai. Non ami tuo marito. Tu sai il piacere che le tue lettere gli procurano, eppure non riesci nemmeno a buttar giù in un attimo una mezza dozzina di righe. Che cosa fate tutto il giorno, signora? Che tipo di affari così vitali vi privano del tempo per scrivere al vostro fedele amante? Quale pensiero può essere così invadente da mettere da parte l'amore, l'amore tenero e costante che gli avevate promesso? Chi può essere questo meraviglioso nuovo amante che vi porta via ogni momento, decide della vostra giornata e vi impedisce di dedicare la vostra attenzione a vostro marito? Attenta, Giuseppina, una bella notte, le porte saranno distrutte, e là io sarò. In verità, amor mio, sono preoccupato di non avere tue notizie. Scrivimi immediatamente una lettera di quattro pagine con quelle deliziose parole che riempiono il mio cuore di emozione e di gioia. Spero di tenerti tra le braccia quanto prima, quando spargerò su di te milioni di baci brucianti come il sole dell'Equatore. Buona parte. Primavera 1797 E questo era appunto Napoleone Bonaparte, un grande uomo di armi, ma decisamente molto insicuro in fatto di amore. Ma è il momento di presentare il nostro collezionista, il nostro filatelista, collegato con noi dalla Puglia, da Lucera, c'è Marco Occhipinti. Buonasera Marco. Buonasera Cesare, buonasera a tutti i telespettatori di Stato dell'Arte. In studio invece c'è Maria Vittoria Pinotti, che è una critica d'arte, autrice di testi di arte contemporanea su tante riviste come Juliet. Buonasera Maria Vittoria. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Marco, comincio da te. Come nasce la tua passione per la corrispondenza antica, per lettere e cartoline antiche? Beh diciamo che la mia esperienza personale è molto simile a quella di tanti filatelisti, cioè da bambini si viene introdotti a questo hobby, dal nonno, dal papà. Nel mio caso è stato mio papà che mi portò, quando avevo 13 anni, alla Mondiale di Roma, Italia 85. All'epoca abitavamo in Sicilia, quindi prendemmo un aereo e andammo a Roma. C'erano talmente tanti commercianti, talmente tante cose bellissime, io mi sono letteralmente ubriagato di Franco Bolli e sono tornato a casa con chili e chili di carta, mio papà ha dovuto comprare una valigia nuova apposta proprio per questa carta che avevo raccolto. E da allora, diciamo, a parte piccole parentesi di tempeste ormonali e adolescenziali, ma questo è normale, diciamo che la filatelia non mi ha mai abbandonato, non mi ha mai più lasciato e chiaramente in epoca più matura i propri interessi personali, io sono un geologo di professione, magari influenzano anche la propria raccolta e i propri hobby e soprattutto diciamo cominci a guardare più il particolare, più che il Franco Bolli guardi magari l'annullo, il Bolli, guardi soprattutto negli ultimi tempi inizia a guardare il contenuto, il contenuto delle corrispondenze. Tu sei un po' un wire della storia, tra poco mostreremo dei pezzi della tua collezione che tu chiami sfizi, perché? Beh, diciamo la parola sfizi che diciamo l'ho presa un po' dalla cultura napoletana, in realtà quando vai in un ristopub così vai ad assaggiare dei piccoli assaggini di street food, finger food eccetera, sono piccole storielle, piccole storie, le storie che racconto non hanno mai la pretesa di essere esaustive su un argomento, c'è tanta letteratura scritta su ogni singolo argomento e invece il mio scopo è quello di utilizzare il linguaggio della divulgazione per portare queste storie a un pubblico quanto più vasto possibile e sono storie che traggono origine sempre da un documento postale, documento postale che non viene analizzato quasi mai da un punto di vista tecnico, ma semplicemente è il pretesto per poi raccontare la storia che contiene, quindi che porta con sé tipo capsula del tempo sostanzialmente. Tu hai scritto un libro sui tuoi sfizi, il titolo è Sfizi di posta, la storia attraverso la posta, la posta attraverso la storia, che cosa contiene esattamente questo libro? Sì, il libro è stato edito a ottobre 2023 da Cosmo Iannone Editore, c'è la prefazione di Gianfranco Iannuzzo, noto attore teatrale, l'introduzione storica di Bruno Crevato Selvaggi e alcuni approfondimenti grafologici della grafologa Mirka Mantuan. Contiene 30 sfizi inediti, che io non ho mai pubblicato, perché ricordo io pubblico su un blog dedicato che è www.sfizidiposta.it e una pagina Facebook altrettanto sfizi di posta. Dal 2018 a oggi ho pubblicato online circa 350 sfizi, mentre nel libro ce ne sono una trentina, sono 30, inediti, e coprono un arco temporale di circa 130 anni del nostro paese. Cioè, dal ragazzo che marina la scuola, alle lettere di Silvio Pellico, dal generale Nobile, su questi della tenda rossa, al povero bambino abbandonato. Sono fondamentalmente storie di vissuti e spaccati di quotidianità, insomma, che rivivono proprio grazie a questi documenti postali. A quale periodo storico appartengono? Da dove partono e dove arrivano da un punto di vista cronologico? Sì, sono il più antico e del 1820, che ho inserito nel libro, il più recente del 1949, quindi all'incirca 130 anni di storia del nostro paese, più o meno. Facciamo a vedere uno sfizio, per usare la tua parola, la tua definizione. Sono le foto numero 30, 31 e 32 per la nostra regia. Qui parliamo di Silvio Pellico, scrittore, poeta, patriota, che ha scritto a Piero Maroncelli, il capo della carboneria milanese. Allora, questa lettera che stiamo vedendo, pensate, è stata sequestrata durante una perquisizione, proprio nell'Ottocento. Che cosa contiene questa lettera così scottante? Sì, in realtà il contenuto della lettera di questa missiva di Silvio Pellico non è particolarmente importante ai fini storici, perché racconta di amori in comune che avevano con degli amici, delle serate teatrali, quindi diciamo spaccati di vita anche in questo caso. Il problema è stato un altro, il problema è stato che Piero Maroncelli è stato arrestato, io tra l'altro ce l'ho anche in originale, eccola qua, vedete una letterina molto molto piccola. Piero Maroncelli venne arrestato dalla polizia austriaca, quale capo della carboneria di Milano. E durante una perquisizione nei giorni successivi di casa di Piero Maroncelli vennero trovate delle lettere, tra cui questa di Silvio Pellico. Di conseguenza la polizia austriaca pensò, ma evidentemente se questi due avevano dei rapporti pistolari, forse magari anche Silvio Pellico e Carbonaro. Allora arrestarono anche lui, interrogarono entrambi, ovviamente non poterono negare, naturalmente alla loro corrispondenza, c'era la lettera che queste e altre parlavano. Però automaticamente la polizia austriaca pensò che evidentemente anche Silvio Pellico dovesse essere anche lui affiliato alla carboneria. In realtà non è stata mai acclarata questa cosa, però insomma alla fine vennero entrambi condannati a morte, condannati a morte e poi venne tramutata in detenzione, entrambi si fecero il carcere allo Spielberg. E una volta che Silvio Pellico è uscito dal carcere, scrisse le mie prigioni che tutti conosciamo. Vogliamo ricordare Marco che la carboneria era un'organizzazione segreta e come tale illegale. Quanto può valere sul mercato una lettera come questa? A questa domanda io di solito rispondo sempre quanto sei disposto a pagarla, perché in realtà il prezzo di questo tipo di corrispondenze, quando non si tratta di francobolli che hanno dei valori di catalogo, quindi valori ben precisi, le corrispondenze hanno un valore effimero che dipende dalla domanda dell'offerta. Quindi quanto tu sei disposto a pagare una lettera del genere è il suo valore fondamentalmente. Io ritengo che sono lettere, questa qua ad esempio, sono lettere di interesse soprattutto storico e quindi potrebbero avere un valore inestimabile come anche no, insomma. Però diciamo che non è una lettera da 100 euro, ecco se proprio vogliamo dargli un valore monetario. Adesso abbiamo le immagini che vanno dalla 3 alla 6, parliamo ora di Corna. Ci puoi raccontare questa storia di tradimenti molto antica? Tra l'altro stiamo parlando di un periodo storico, il 1811, quando c'era il Regno d'Italia, quindi devo dire la verità, non temiamo querele. Sì, tra l'altro appunto anche il libro si ferma al 1949 apposta, proprio per dare uno stacco, diciamo, per non raccontare storie troppo recenti. Questa delle Corna è molto simpatica e risale appunto al 1811 e diciamo è uno spaccato di quello che era allora la società, perché in realtà quando ad esempio si scopriva in flagranza di reato un adulterio, il mazziato, diciamo, aveva facoltà di uccidere l'uxoricida. Però l'uxoricidio non era condannato con una pena di morte, con un ergastolo, no, era una semplice pena da 1 a 5 anni, era una sorta di delitto d'onore concesso a chi uccideva, diciamo, l'amante della moglie. Tra l'altro il codice penale Zanardelli dell'89 appunto stabiliva proprio questo tipo di detenzione, e che poi venne tra l'altro anche promulgato anche dal codice Rocco del 1930. Soltanto di recente, nel 1968, si è abolito il reato di adulterio e abrogate tutte le attenuanti del cosiddetto delitto d'onore. Questa lettera che è appunto del 23 marzo... Aggiungo io, fortunatamente, necessariamente. Anche forse un po' troppo tardi, dai. Questa è una vergogna del passato, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Quindi la lettera che abbiamo mostrato in immagine è del 23 marzo 1811 ed è spedita da fabbrico e indirizzata al giudice di pace di Correggio, quindi sono due comuni di Reggio Emilia, della provincia di Reggio Emilia. Nella messiva leggiamo che al giudice di pace si invita a visionare, a verificare il consiglio a parere trattandosi di una femmina stata più volta soggetta alla sorveglianza della polizia. Si invita a verificare il comportamento di questa donna, in quanto femmina, con la F maiuscola, più volta soggetta alla sorveglianza della polizia. E per dare peso a questa richiesta di controllo vi è anche acclusa una sorta di deposizione del marito di questa femmina, con la F maiuscola, e tale Domenico Giavarini, che dichiara di aver ritrovato la di lui moglie, Santa Cavazzoni, serrata nella camera di sua abitazione in fabbrico con Luigi Pirretti di Detto Comune, il giorno 21 dello scorso settembre, circa l'ora decima pomeridiana, e che nel giorno 10 marzo, suddetto, alle ore una pomeridiana, ritrovò la medesima con certo Giuseppe Cartellani di Campagnola, rinchiuso in una camera del signor Patrizio Zeman, ad uso di osteria, ed ambidue nei modi e nelle forme più indecenti. Una storia da soppopera, una storia da soppopera, ma dove li trovi questi documenti? Ma guarda, ho qualche spacciatore con tra virgolette di fiducia che mi sa di questa mia passione, di questo blog che ho di sfizi di posta, e quindi magari mi propone dei documenti più curiosi, però poi la maggior parte li trovo scartabellando negli scatoloni dei mercatini, dell'usato, nelle fiere del collezionismo, e passo le ore a guardare, a guardare, così. Foto numero 1 e quella numero 2 ci mostrano una cartolina indirizzata, inviata a Cesare Pavese, grande scrittore italiano. Che cosa c'è scritto? Cosa hanno scritto a Cesare Pavese? Sì, allora, la cartolina che è riportata nel libro, tra l'altro ce l'ho anche qui in originale, eccola qua. Sostanzialmente un tale Peppe Ravazzi era un capo partigiano, nel nord Italia c'erano diverse brigate partigiane, siamo appunto alla fine della guerra, con questa cartolina del 45, settembre 45, e quindi questo Peppe Ravazzi scrive a questo suo amico, che è appunto Cesare Pavese, e gli scrive per la precisione, Carissimo Cesare, che ne è di te dopo tanto tempo? Vorrei avere tue notizie, io conservo di te un affettuoso, simpatico ricordo, ci stiamo ritrovando inariditi e stanchi, quasi alla soglia della giovinezza, dopo la triste esperienza della guerra. Ricordi Vianne, un tragico destino l'ha perseguitato, dopo aver subito, tu ne sai, di atroce torture in carcere, che lo ridussero in fin di vita, è stato impiccato a Torino dai tedeschi l'anno scorso. Quindi sostanzialmente racconta di questo Vianne, che un altro capo partigiano, che una volta che i tedeschi lo arrestarono, insieme ad altri tre, venne impiccato in pubblica via a Torino, e la cosa più atroce, diciamo, è che i tedeschi fermarono addirittura i tram e fecero scendere le persone per assistere allo spettacolo, giusto per far capire, diciamo, noi chi siamo, ecco, che cosa facciamo, e quella è la fine che aspetta a coloro i quali si mettono contro di noi, fondamentalmente, il messaggio è quello. Quando... Vorrei ora collegarmi con la Valdossola, dove c'è un libraio questa volta, anche lui molto speciale, è Michele Bonelli. Michele, buonasera. Buonasera. Buonasera, Cesare, a tutti quelli che ci stanno guardando. Allora, il collegamento, lo state vedendo, non è ottimale, ma c'è un motivo, direi anche una giustificazione, perché Michele ha aperto la libreria più alta d'Italia, a oltre 1300 metri di altitudine. Michele, come arrivi ad aprire questa libreria dei record? perché va detto innanzitutto che tu non nasci libraio, anzi direi che tu sei un tuffatore, perché a un certo punto hai deciso, nonostante che tu avessi una carriera di successo a Milano come pubblicitario, di cambiare completamente vita. Come mai questa scelta? Da dove sei partito? Diciamo che come prima cosa sono partito dalla mia passione per i libri, che mi porto dietro da quando ero ragazzo, e io ho collezionato nella vita veramente tanti volumi. Ma il secondo motivo che mi ha spinto al cambiamento è che Milano, la famosa Milano, la famosa ma ex Milano da bere, non ci stavo più dentro proprio, non ce la facevo più, ero scoppiato. E la terza cosa è la mia grande passione per la montagna, che anche questa mi porta dietro da quando ero ragazzo. Ho fatto molte gite di sialpinismo, anche in Valdossola, che è stato l'inizio della mia conoscenza con la Valdossola. Quindi, messe insieme queste cose, io mi sono deciso che da grande, dalla carriera pubblicitaria dovevo fare qualcosa che mi piacesse. E ho pensato che fare il libraio poteva essere una valida... Vediamo come stai facendo il libraio nel nostro servizio. Questa sarà la libreria proprio vera e propria. Come vedete, è ancora un attimo in costruzione. E però, qui ci saranno tutti i libri principalmente usati che provengono dal mio magazzino di Milano che avevo fino a due anni fa. E adesso, con fatica e col tempo a disposizione, sto mettendo, come vedete, i libri scaffali palati. Sono tutti catalogati. E invece, su questo scaffale qua di ferro, ci saranno i libri nuovi che sono già a catalogo sul mio sito tomidicarto.com e che saranno qui a disposizione. E io lavoro al 90% online, ovviamente. Tutti i libri che ci sono qua dentro saranno disponibili sia come biblioteca, nel senso biblioteca circolante, quindi uno vede, viene, lo sceglie, se lo porta a casa, se lo legge, me lo riporta, oppure in vendita. Allora Michele, in questa avventura tu hai una compagna davvero speciale che vi mostriamo ora. La foto numero 10 si chiama Ross. Chi è Ross? Qui c'è una triste storia, però, dietro a Ross. C'era la mia gallina domestica. Già dicendo era, vi ho dato l'anticipazione. Scusami, però scusami, Michele, è comunque una storia d'amore? Assolutamente sì, purtroppo, come tante storie d'amore. Non ci ne parleremo perché abbiamo una cabina del vento, quindi ti consiglierò di farti una cabina del vento in Val Dossola. Per capire che cos'è una cabina del vento, naturalmente, devi continuare a seguirci. Lo farò. Allora, quindi Ross è la tua compagna, è stata la tua compagna d'avventura. Ecco, vorrei chiedere un consiglio, anche più di uno, a chi volesse cambiare completamente vita. Come hai fatto tu? Chi vuole inaugurare un nuovo capitolo della propria vita lasciando tutto? Come si fa? Intanto si fa che bisogna seguire una passione perché è quella che dà il fuoco e il movimento a tutto il cambiamento. Quindi, coltivare le proprie passioni è il primo passo. Dopodiché, bisogna non fare il passo più lungo della ghiaccia perché comunque anche le avventure più avventurose hanno bisogno di un po' di concretezza. quindi fare due conti, vedere se ce la si fa e poi tanto coraggio, tanto coraggio. Il coraggio fa sì che... Parlando di passioni, Marco, torno da te. Abbiamo un altro documento della tua collezione è la foto numero 21. Qui c'è un messaggio segreto nascosto dietro il francobollo che ora non vediamo perché stiamo vedendo proprio il messaggio. Si nascondevano messaggi segreti dietro i francobolli e di che tipo? La segretezza, la cifratura della corrispondenza è cosa antica diciamo anche abbiamo poco anzi accennato alla seconda guerra mondiale la macchina enigma è una proprio l'antonomasia della cifratura e della segretezza che venne utilizzata appunto dai tedeschi per cifrare i propri messaggi ma anche ad esempio nella corrispondenza con l'uso di inchiostro simpatico penso ad esempio al confino politico a tutti i confinati che venivano spediti nelle isole al confino e quindi spesso per diciamo bypassare la censura scrivevano con inchiostro politico con inchiostro simpatico scusa beh soprattutto diciamo viene utilizzato in questo caso nel caso della cartolina che hai mostrato per risparmiare perché perché fino a un certo punto cioè fino agli anni 50 più o meno spedire una cartolina aveva tre tipi di tariffe diverse ad esempio un 30 centesimi per spedire una cartolina con il testo che vuoi invece 20 centesimi fino a 5 parole o 10 centesimi soltanto la firma quindi se tu volevi risparmiare un po' sul costo potevi stringere il tuo messaggio fino a 5 parole devo chiudere Marco devo chiudere devo salutare te e Michele naturalmente vi aspetto in studio perché avete tante storie bellissime di documenti postali e di libri da raccontarci devo dare la linea alla pubblicità ma solo per uno due minuti perché poi torniamo qui a stato dell'arte con il segreto dei telefoni del vento a tra poco